Lui sta facendo un'esperienza di volo virtuale, noi vediamo nello schermo quello che lui vede, lui pensa di essere lì, gli vengono addosso cose, è divertente, però io non mi metterei mai lì, pronta a tutti, vergogno un casino, però avrei voluto farlo. Questo è quello che lui vede, adesso vola in mezzo ai grattacieli, ci sono degli oggetti che gli vengono addosso, non ho capito se li deve evitare o li deve prendere, e lui è convinto di essere lì, si diverte un casino, cioè io non posso mettermi lì, dai, sono ridicola, non deve essere bello, però i miei porti, i miei porti, adesso sta volando di le notte su New York, morire, guarda.